Siamo a Fossombrone nella scuola dell'istituto Donati e abbiamo come ospite il sindaco di Isola del Piano Peppino Paolini e ci parlerà della legalità e intanto una domanda introduzione che cos'è la legalità? Una domanda da un milione di euro questa. Forse volevi chiedermi cos'è la fattoria della legalità ma appunto la legalità è il rispetto delle regole e la fattoria della legalità nasce da un bene confiscato e l'idea di riportare alla comunità e di restituire alla comunità un bene che era stato sottratto riportandola con cosa? Con dei progetti dove non solo trionfa la legalità ma dove ci si può incontrare con dei giovani e si possono creare anche dei posti di lavoro perché la vittoria si ha anche se riesci a creare anche un solo posto di lavoro ma devi creare qualcosa che sia per cui valga la pena di lottare. Quando lo Stato ha affidato la fattoria della legalità al Comune? Allora il bene viene confiscato nel 2002 e viene assegnato in maniera definitiva nel 2006 poi rimane inutilizzato per circa quattro anni e nel 2010 io quanto vengo letto sindaco richiedo all'Agenzia dei beni confiscati di rifare un'assegnazione perché avevamo un progetto che coinvolgeva Libera. Per cui diciamo che viene assegnata in maniera definitiva al Comune a gennaio del 2011. Quando è nata la fattoria della legalità a Iuso del Piano? La fattoria della legalità nasce quasi subito dopo il 2011 perché nasce da un progetto con alcuni amici che ci vedeva propensi ad iniziare qualcosa che vedesse coinvolto Libera e una volta che Libera ha dato il suo sostegno a questa iniziativa è nata proprio Libera provincia Pesaro Urbino e poi nasce la fattoria della legalità. Fattoria della legalità che adesso da circa 7-8 mesi siccome nel Libera e nel Comune possono gestire i beni ma devono riportarli alla società abbiamo fatto una delibera in giunta per cui abbiamo assegnato per 15 anni mi sembra 15 anni il bene alla fattoria della legalità che intanto si è costituita come associazione Onlus. Secondo lei cosa rappresenta la fattoria della legalità? Ma io se ti comincio a parlare della fattoria della legalità dobbiamo fare cosa rappresenta per me dobbiamo fare 10 puntate per me rappresenta un sogno io sono stato anche sono uno che è abituato a sognare sono stato uno dei avevo le più o meno letta tua poco più grande di te sono stato uno dei soci fondatori della cooperativa al ceniero quella volta era un sogno un sogno di alcune persone che si mettevano insieme di alcuni giovani e volevano cambiare alcune cose ecco questo sogno continua con la fattoria della legalità in cui mi piacerebbe che dei giovani come te facessero qualcosa lì all'interno perché oramai quello che ho dato posso starti vicino dirti qual è la mia esperienza ma sei tu che devi portare avanti il futuro e poi c'è un altro sogno grande che abbiamo a Isola del Piano che stiamo cercando di concretizzare che è una scuola di alta formazione per l'agricoltura biologica e biodinamica a livello mediterraneo e perché no anche sulla sulla legalità io allora vorrei chiudere l'intervista e le dico grazie che è stato a questa scuola a parlarsi della legalità ti ringrazio io